Siamo un gruppo di docenti e di alunni dell'Istituto Comprensivo Tommas Aiello di Bagheria che fa parte del Parlamento alla legalità intitolata Rocco Finnici, anche l'aula in cui ci troviamo intitolata Peppino Imbastato quindi da sempre siamo stati sempre impegnati nel trasferire, convinti come siamo, le nostre tensioni morali, i nostri sentimenti sui ragazzi che ci troviamo di volta in volta a formare. Quest'anno abbiamo deciso di partecipare al progetto promosso dalla Fondazione Falcone e ci ha entusiasmato almeno nel kit che ci hanno dato il libro Da che parte stai e appunto abbiamo fatto convergere il nostro impegno proprio nel mettere su un testo, un dialetto. Borsellino e Falcone, insieme alla Lavo ci riucavano a pallone. Paolo e Giovanni, più forti. Ridavoli la chiesa, la Lavo ci santa e il senso. Mettitici tutta la forza che tenitici, vuole lo coraggio della vita, vi vincilla sta partita. che facesse capire ai ragazzi il messaggio veramente importante che devono stare nella partita della vita, devono stare dalla parte della legalità, dalla parte della giustizia, dalla parte della solidarietà verso i deboli, portando avanti quello che è stato il testamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Lavo ci santa e la Lavo ci santa e la Lavo ci santa. Grazie a tutti.